Il paese si veste a festa grazie all'estro dei cittadini che hanno realizzato centinaia di creazioni a maglia. Alberi, monumenti, fontane, i lavori in lana hanno invaso domenica 29 giugno Barberino di Mugello per la seconda edizione di un filo di manifestazione organizzata dalla locale sezione SociCop, dalla biblioteca Ernesto Balducci e dal suoni caffè. Un termine inglese che indica però una tradizione tipica di queste parti, il lavoro a maglia. Dopo averle fatte insieme in gruppi si riuniscono e si mettono a disposizione di un paese per renderlo più bello, come se fosse una tela su cui dipingere. Noi utilizziamo invece delle pitture i lavori fatti a maglia, l'uncenetto e il ricamo. Questo è per noi un modo per far vedere la nostra tradizione, la nostra cultura ma anche il nostro piacere di stare insieme. In piazza c'è la tradizione del ricamo fiorentino e le eccellenze del territorio. Come la mostra all'interno della biblioteca, il NIT Caffè ha realizzato una barriera corallina in Kashmir insieme a Borgo Kashmir, azienda che a Borgo San Lorenzo dà lavoro a 80 persone tra dipendenti e indotto. Le sue creazioni sono richiestissime in tutto il mondo. L'ultima frontiera del lusso sono elementi di arredo, accessori e quadri d'arte in Kashmir. Quindi uscire fuori un attimo da quello che può essere in maglione, pullover e trovare nuove strade da poter proporre a nuovi clienti, sempre più esigenti dove da noi in Italia, soprattutto in Mugello, cercano le eccellenze, cioè il vero manufatto ancora fatto a mano dove ci sono l'ago e l'iPad accanto. Ecco queste due forme di futuro. Nata nel 1949, l'azienda punta sulla formazione. In questo campo i lavoratori specializzati mancano. A settembre partiranno così per il secondo anno le lezioni con cui i maestri dello stile insegneranno i segreti del Kashmir a una quarantina di persone. All'orizzonte la possibilità di un'occupazione. Ma torniamo nelle piazze di Barberino di Mugello, dove è stata allestita anche la Casa delle Bambole del Cuore, pezzi unici realizzati dalle volontarie della sezione Soci Coop per raccogliere fondi in favore della fondazione Il Cuore si scioglie. Torneranno sui banchini delle sezioni Soci per il prossimo Natale. Tra le mamme di queste bambole c'è la signora Marta, la loro stylist personale. Io di solito faccio la sarta, cuscio i vestiti, comincio dal modello e posso vestirla fino al vestito. Sono sempre più curate, sempre più precise nei dettagli e soprattutto c'è sempre di più, si vede, si vede chiaramente l'amore delle persone che si divertono a lavorare, ma più che a lavorare è un gioco, non stare insieme.